Vedete come fare la pizza bianca, facile e veloce in una maniera sfiziosissima. Innanzitutto salvatevi la ricetta perché questa proprio non può mancare nella vostra cucina. Tutto nasce dall'impasto quindi fatene una regola d'arte come ho fatto io all'80% di idratazione. Con una spatola tagliate il panetto in strisce e ora cospargetele di farina. Poi cominciate a tagliarli in quadrati. Ora metteteli in teglia, carta forno, olio, sale, rosmarino e si inforna a 300 gradi per 5 minuti. E finalmente eccoli qui. Voi non potete sentire il profumo ma garantisco io per voi. Sofficissimi sopra, croccantissimi sotto. Mamma mia, buonissimo.